Ben ritrovati dall'Italian Certificate Awards 2021, siamo con Marco Medici di Unicredit. Buonasera a tutti. Allora, Unicredit che ha vinto appunto tre premi, il premio speciale Wall Street Italia, il premio del certificato a capitale protetto condizionato e il premio speciale Certificate Journal. Allora, come prima domanda Marco le chiederei appunto quali sono i segreti dei vostri successi? Ma guarda, innanzitutto vorrei cominciare col dire che siamo molto contenti di questi tre premi vinti perché vanno a far capire come Unicredit sia una presenza in questo mercato da ormai 15 anni e di come sia una presenza importante anche dal punto di vista dell'innovazione. Non c'è un unico segreto sicuramente, quello che noi proviamo a fare è cercare di capire qual è il bisogno degli investitori, quindi che cosa cercano a livello di prodotto e a livello di servizio e un po' cercare di andare a proporre quello che loro cercano nella maniera più efficiente possibile. Come abbiamo detto anche durante la premiazione, il lavoro di squadra è una cosa sicuramente importantissima che va dalla parte appunto nostra in cui andiamo a parlare con l'investitore finale fino a tutti i nostri colleghi che si occupano dello strutturare il prodotto e di mandarlo al mercato. Perfetto, molto chiaro. La seconda domanda è se avete già delle aspettative dei progetti in cantiere per questo 2022. Il 2022 è partito sicuramente in maniera soddisfacente, quello che stiamo provando a fare è arricchire ancora di più la gamma di prodotti che noi abbiamo cercando di proporre delle soluzioni che vadano un po' ad aiutare tutti gli investitori a seconda della loro view di investimento. Insieme a questo continueremo la nostra attività di formazione attraverso più canali possibili e attraverso naturalmente partnership importanti e appunto servizi sul nostro sito digitali e non che possano aiutare l'investitore a capire bene come funziona il prodotto e a capire in cosa sta investendo. Perfetto, grazie per le risposte e ancora complimenti per i premi conquistati. Grazie mille a voi, buona serata a tutti.